Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna, in direzione Mare, code in uscita a Lastra Assigna. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori in entrambe le direzioni, rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento per la 1. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Chiudiamo con la viabilità cittadina a Firenze. A causa del crollo avvenuto questa mattina in un cantiere via Mariti è chiusa via del Ponte di Mezzo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!